E' bello amare il calcio. Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team. Torino-Lazio, passato e presente di Ciro Immobile. Immobile, attenzione Immobile, conclusione di gol! L'attaccante napoletano torna nello stadio dove è diventato grande. Immobile! Doppietta di Immobile! Con i Granata, quattro anni fa incantò la Serie A e a soli 23 anni salì sul trono dei Bomber. Spazio Immobile, va lui, Immobile, Immobile! Pareggio nel Torino, con Ciro Immobile! Ora Tornella-Lazio comanda in Italia con 29 centri e in Europa è alla pari con Messi alle spalle solo di Salah. Al centro, colpa di testa, il 2 a 0 Lazio! Ciro Immobile! Allo minuto numero 54, il 2 a 0 Lazio! Immobile in questo momento è il centroavanti torale della Nazionale. Penso che sia l'attaccante con la media in Europa più forte ed è giusto che stia assieme al mio fratello. Penso che negli ultimi 15 anni sia uno tra i cinque attaccanti più forti che abbiamo avuto in Italia. Il Toro, trascinato da Immobile, conquistò dopo 20 anni l'Europa League. Collasso di Immobile! La Lazio ora punta ancora più in alto, terzo posto e Champions League diretta. Lulic che guarda in mezzo fa partire il cross a cercare Immobile! Missione possibile con Super Ciro, già 41 gol in stagione, record per un attaccante laziale in una sola annata. Felipe Anderson si allarga in la cross, sul secondo paro Immobile! Che gol! Ciro Immobile! Gol, rabbia, obiettivi e ricordi. Granata avvertiti. Per Ciro il grande, Toro Lazio non sarà mai una partita normale. Per Ciro il grande, Toro Lazio non sarà mai una partita normale.